Ok, buongiorno a tutti, io sono Luigi De Russis e sarò il vostro docente di questo laboratorio di reti 2, se vi servono sedie qua ce ne sono almeno tre, che io non uso, quindi niente, quella brutta, niente. Ok, rifacciamo, buongiorno a tutti, lo ridico per i loro tre, io sono Luigi De Russis, sono ricercatore del Politecnico di Torino e sarò il vostro docente per questo corso di laboratorio. L'idea di oggi è darvi un'introduzione a questi tre crediti che sono slegati dalla parte di teoria che fa il professor Cerotti. Per oggi non ci serviranno i pc del laboratorio, neanche i vostri pc portatili, ovviamente non dovete chiuderli o spegnerli, ma dalla prossima volta ovviamente sì, sarà un corso, un mini corso, abbastanza pratico, vedo alcune facce note dall'anno scorso e da due anni fa. Per loro dico che è un po' cambiato il corso rispetto all'anno scorso e da anni fa, già dal fatto che siamo qui oggi e non a maggio come succedeva negli anni passati. Informazioni di base sono un corso da tre crediti, quindi 24 ore che faremo tutte qui. Io vi ho già detto chi sono, quello è il mio indirizzo mail di questa università a cui potete scrivere e aspettare risposta. Se avete bisogno di incontrarci fuori dall'ora di lezione, diciamo, va bene, basta che ci mettiamo d'accordo via mail e se abbiamo bisogno di un incontro di persona io tenderei a farlo il martedì intorno a queste ore. Prima se non avete lezione, dopo se non avete lezione. Insomma, o prima delle 11 o dopo l'una. Tipicamente al martedì, altrimenti possiamo sfruttare quello che la tecnologia del 2019 ci ci concede e quindi Skype e quant'altro, se sono cose per cui non c'è bisogno di vedersi di persona. Il materiale è e sarà tutto su DIR, sulla pagina del corso, che è diversa da quella di teoria, ma che dovrebbe essere linkata a un certo punto, l'una all'altra. Comunque se cercate reti 2 e laboratorio dovreste trovarlo. Io, come forse avrete notato, cercherò di videoregistrare tutto, in modo che se qualcuno non ci fosse, ci fosse qualche studente lavoratore, eccetera, le cose che vi racconto io, che facciamo insieme dal mio computer, diciamo, vengono videoregistrate e messe poi su una playlist su YouTube, accessibile a tutti. Quindi posso fare delle bellissime figure in Mondovisione. Questa lezione di oggi è decisamente introduttiva. La mia idea è andare avanti fino alla fine, senza fare pausa, ma finire ovviamente molto prima del luna. Perché è solo introduttiva? Dalla prossima volta inizieremo a fare qualcosa di più pratico. Il corso sarà molto pratico, io vi racconterò veramente poche cose da un punto di vista teorico. Oggi è un pezzettino della prossima volta e alcune cose teoriche per questo laboratorio vi racconterà il professor Cerotti, altre vi darò io il minimo di informazione che ci serve per agire praticamente. E in questa lezione introduttiva vi faccio alcune domande, a cui spero che alcuni di voi risponderanno. Non possono rispondere quelli degli anni passati, perché sarebbe spoiler. che cosa vi immaginate, quali sono le vostre aspettative su queste tre ore, tre crediti, se ne avete. Che cosa pensate di questo, cosa vi aspettate che succeda qui, essenzialmente? Cosa vi aspettate di scoprire, cosa vi aspettate di imparare, cosa vi aspettate di fare, di non fare? Niente. Qualcosa, insomma, una qualche risposta. Un. Bisogna fare più spesso domande così, così si ottiene il silenzio completo. Cosa che invece non si riesce a avere sempre. Non ci sono risposte giusto o sbagliate, giusto qualche risposta. Avrete delle aspettative. Vado lì a fare? Schifo, dice il vostro compagno qua davanti. Sì, imparare, però è un po' troppo generico. Sì, è. Ok, a programmare un'architettura della comunicazione. Altri? Cosa pensavate di venire a fare questa mattina? Al netto di imparare e di schifo. Il professor Cerotti ha scelto di guardare le cose. Quindi, il professor Cerotti ha spoilerato un pochino, l'internet delle cose va bene, ma... Passiamo 24 ore a raccontare la filosofia dell'internet delle cose o... Che si può anche fare, però non so quanti... Quanto sia interessante. Non avete davvero idee? Siete arrivati qui con la mente aperta. Allora, facciamo una domanda forse un più facile. Quale di queste cose, diciamo, perché sono cose molto diverse, l'una dall'altra, voi conoscete, conoscete, vuol dire non avete sentito parlare oppure lo conosco molto bene. Per alzata di mano, così non dovete parlare. Quanti di voi conoscono Java? Fortunatamente tutti. Quanti di voi hanno o conoscono, hanno usato tecnologie web, HTML, CSS e JavaScript? State facendo un corso in parallelo a questo, vero? In C Sharp. Che sarà in C Sharp. A un certo punto diventerà in C Sharp. Ok. Database. E come interfacciarsi con Java? Allora, database? Circa. Circa. Che database? Che database? Ok. E come interfacciarsi con Java a un database? Non. Ok. Ok. E come... Vi siete mai interfacciati a un database programmando? Come? PHP. Entity Framework. Entity Framework. C Sharp. C Sharp. Che poi non è così diverso da Java. Ok. Gli altri mai usati un database da linguaggio di programmazione? GSP e Java? Sì, sì. Ok. Ok. Noi li useremo un pochettino i database, non tanto, 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 per cose semplici. Ma li useremo in Java, tipicamente. IntelliJ, l'ambiente di sviluppo? Eclipse usavate. Raspberry Pi. Chissà che cos'è? Facciamo una domanda alla volta. Perfetto. Chi l'ha mai usato? Ok. MQTT. Chissà che cos'è? MQTT. Non sapete che cos'è? Viate voi. Chi l'ha usato? Di conseguenza nessuno. Rest? Voi non dovreste stare lì, dovreste stare qua davanti, scusate. Rest? Voi lo conoscete o avete usato? O tutte e due? Io posso più limitare a fare REST. Ok. Queste sono alcune delle cose che useremo in queste 24 ore. Ovviamente, ma la maggior parte, il corso sarà fatto in Java, principalmente. Quando ci servirà qualcosa dal mondo web, useremo le tecnologie standard web. Io tenderei a usare IntelliJ, ma vediamo, eventualmente passiamo ai clips. Userete sicuramente un Raspberry Pi, tutti. E qualcuno, no, tutti, conoscerete MQTT e userete MQTT. e sicuramente tutti parleremo di REST e proverete a costruire un'interfaccia REST. Gradle? Aspetta. Gradle? Sì. Più o meno. Dimmi. Raspbian. Allora, l'obiettivo del corso, di questo mini corso, di questo pezzo del corso, è quello di, come vi ha già detto il professor Cerotti, avere un laboratorio sull'Internet of Things, sull'Internet delle cose. E l'obiettivo è quello di imparare caratteristiche e architetture, e anche sperimentare caratteristiche e architetture che sono proprie dell'Internet of Things, sperimentando in maniera particolare con dispositivi reali, veri, e con servizi che sono propri del mondo dell'Internet of Things, e che sono servizi che si possono utilizzare oggi. Quindi non, diciamo così, problemi giocattolo, non da vendere al di fuori di questa, dell'università, ma che utilizzano tecnologie vere, non costruite ad hoc per l'università. E l'obiettivo è quello di integrare competenze diverse e conoscenze diverse che già avete in passato, che già avete acquisito nel corso di studi e che state acquisendo nel corso di programmazione web, che non si chiama programmazione web, si chiama? Uno si chiama metodologie, è l'altro applicazione, web. Con l'obiettivo di costruire, quindi metteremo, metterete insieme questa serie di competenze, con l'obiettivo di costruire un sistema IoT prototipale, ma funzionante, che sarà buona parte, non tutto, ma buona parte del vostro esame di questi tre crediti. Allora, partiamo da qualche definizione. Che cos'è l'Internet of Things? Che cos'è l'Internet of Things? È così ovvio che bisognerebbe dirlo. Strumenti di tutti i giorni collegati a Internet. Sì, va bene. Oggetti, chiamiamoli oggetti perché strumenti, che sono connessi a Internet. e quante cose ci sono in questa stanza che potrebbero essere classificate come Internet of Things? Io suppongo che voi ne abbiate almeno uno tutti. Il telefono. È un oggetto collegato a Internet, no? Nell'accezione più ampia, sì. Partiamo da un po' di definizioni, diciamo, un pochino più ufficiali. Non c'è... Non c'è una definizione unica di Internet of Things, non c'è una definizione univoca. Ce ne sono tante che si assomigliano che noi hanno alcune caratteristiche comuni. Gardner dice che l'Internet of Things è una rete di oggetti fisici che contengono tecnologia embedded per comunicare e ascoltare o interagire con i loro stati interni o con l'ambiente che li circonda. Dove qui ho evidenziato alcune parole chiave che sono oggetti fisici comunicare e ascoltare o interagire. The Guardian dice che l'IoT invece si tratta in maniera più simile a quello che ha detto il vostro collega si tratta di collegare dispositivi attraverso Internet permettendogli di parlare tra di loro con le applicazioni e con noi. Quindi qui esplora quel communicate di prima ma ci aggiunge a chi comunica? Tra i dispositivi con altre applicazioni con altri servizi e con le persone. Altra definizione l'Internet of Things è una rete gigante di cose connesse che anche include le persone e la relazione all'interno dell'Internet of Things può essere persona a persona di cui l'oggetto diventa tramite per la comunicazione tra persona a persona persona a cose oppure cose a cose quindi in maniera simile a quello che diceva prima. L'IEE Internet of Things Working Group invece dice che l'IoT è una rete che collega è un po' più preciso degli altri è una rete che collega in maniera unico identificabile in maniera univoca cose a Internet e le cose hanno potenzialmente delle capacità di programmazione e hanno delle capacità di sensing quindi di ascolto di percezione di rilevamento e attuazione sull'ambiente agiscono fanno qualcosa e le cose possono essere queste cose possono essere raccolte le informazioni su queste cose possono essere collezionate e lo stato di queste cose può essere cambiato da remoto dato che sono collegate a Internet in ogni momento in ogni luogo e queste sono alcune di quelle cose di cui parliamo non c'è lo smartphone ma e allora facciamo un altro un'altra cacchierata sperando di non parlare solo io che cosa sono queste cose? cose sì no no che cosa sono cosa fanno il primo in alto per esempio questo che cos'è? non è Alexa è un termostato Nest no questo qui come dice qualcuno è un termostato Nest quindi un termostato dell'Internet of Things Nesta è una start-up che è stata acquisita da Google quindi attualmente è Google il secondo Alexa non è Alexa è l'Amazon ICO che dentro ha come software utilizza Alexa come interfaccia vocale queste lampadine non Alexa Philips Hue ok quindi lampadine della Philips che sono connesse si accendono e spengono come tutte le lampadine e cambiano anche colore avanti poi che cos'è una doccia? no non spruzza acqua che cos'è? secondo voi? c'è non è una telecamera? è un sensore sembra un sensore dell'allarme e cosa fa quel sensore dell'allarme? questo è un sensore che tra le altre cose rileva i movimenti in realtà è un sensore che usa una tecnologia allora il primo parliamo anche un attimino di tecnologia il primo è un termostato che fa il termostato ed è Wi-Fi il secondo è l'amazonico e anche lui usa la rete Wi-Fi il terzo queste lampadine usano invece una rete Zigbee per comunicare per interagire tra di loro che è una rete mesh questo è un sensore che tra le altre cose rileva il movimento ma rileva anche temperatura umidità e luminosità è un sensore quadruplo che ha la forma del sensore di movimento perché è la parte che gli serve di più per funzionare gli altri potrebbero non avere forma particolare per la temperatura basta un termometro e usa una tecnologia di rete che si chiama Z-Wave che assomiglia abbastanza a Zigbee come modo di funzionamento ma è un protocollo diverso ed è un protocollo proprietario a differenza di Zigbee che non lo è queste sono prese sono prese e sono anche loro prese Z-Wave che cosa faranno una volta che gli attaccate qualcosa possono programmare si possono accendere e spegnere ok e in più vi dicono quanta potenza state consumando l'oggetto collegato sta consumando questo nessuna idea questo è un cugino di quello sopra nel senso che è della Nesta anche lui ed è un sensore di antincendio quindi CO2 anche lui usa il Wi-Fi queste casse 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 della Sonos anche loro sono Wi-Fi questo lo saltiamo per un attimo questo questo sopra che cos'è quello lì no no questo qua è nero quello bianco a fianco è quello che attacca i termosifoni ok quello nero è un braccialetto fitness della Jobon bluetooth questo qui è la valvola termostatica per i termosifoni anche lei Z-Wave in questo caso in cui gli si può regolare la temperatura desiderata del termosifone non dell'ambiente perché sta sul termosifone questi non sono casse non è un'oliera e una saliera sono sensori sono sensori di temperatura uno interno e uno esterno e anche loro usano il Wi-Fi questo qui cosa sembra? cosa sembra? no non è il Comcast non è un microfono non è una videocamera non ci sono videocamere qui ve lo posso dire è una è una serratura è una delle serratura elettronica IoT Wi-Fi che potete aprire la porta di casa vostra con lo smartphone voi e i ladri che vogliono derubarvi ovviamente questo questo dovrebbe essere abbastanza facile è un telecomando non è un telecomando è più un cos'è? è un interruttore sono due interruttori diversi in un unico la caratteristica di questo è che utilizza una tecnologia che si chiama InOcean che fa Energy Harvesting quindi tutti i dispositivi che avete visto finora hanno o sono attaccati alla corrente o hanno una batteria che è da cambiare o da caricare il sensore quello che vi dicevo sopra ha una batteria una pila che si scarica ogni mese ogni due mesi è poi da caricare anche la varvola termostatica le altre cose sono attaccate alla corrente o hanno la batteria ricaricabile questo fa Energy Harvesting vuol dire che lui non ha batteria dentro ma quando premete gli date l'energia sufficiente per trasmettere il pacchetto necessario a dare il comando che gli serve quindi usa la la forza che voi applicate sul bottone per accendere il trasmettitore e inviare il comando che gli serve questo questo è un parente di quello della prima riga nel senso che più o meno è la stessa cosa è un altro di quei sensori come negli antifurti stavolta solo solo movimento tipo quello che c'è nei bagni per accendere le luci queste qui cosa sono? un antitaccheggio? no sono tutte cose è una cosa che si può usare in una casa in una in una stanza come questa si può usare quelle si potrebbero usare in cinque posti in questa stanza è un sensore di apertura porta finestra che rileva se la finestra o la porta è aperta o chiusa e infine il mio preferito che credo non sia neanche più in vendita ma ne sono particolarmente affezionato quindi lo metto sempre che cos'è secondo voi quella cosa lì non è un amazon eco o cose simili non è una cassa più o meno è più o meno un vaso è una specie di termos è un bicchiere è un bicchiere IoT che vi dice cosa avete bevuto nella giornata e quanto avete bevuto nella giornata quindi voi gli mettete l'acqua e poi lo vi dice ah oggi avete bevuto mezzo litro d'acqua finora avete assunto queste calorie solo dei liquidi voi gli mettete il caffè e stessa cosa come immaginerete come immaginerete non mi ricordo neanche come si chiama ma è andato fuori produzione ha avuto un così grande successo che così tanta gente l'ha comprato che hanno chiuso per fallimento questo per dire che di cose di dispositivi dell'internet of things ce n'è davvero per tutti i gusti e quanti ne vogliamo alcuni di quelli li abbiamo qui li useremo non la tazza non il bicchiere e neanche il termostato ma ce n'è davvero per tutti i gusti probabilmente se avessi un'idea più stupida che del mondo probabilmente ci sarebbe la versione IoT di quella cosa basta cercarla quindi dal punto di vista dei dispositivi c'è veramente poco da inventare e poco da fare per cui noi non ci occuperemo della creazione di nuovi dispositivi proprio perché volendo c'è davvero la qualunque ci preoccuperemo di come utilizzare quei dispositivi per far qualcosa di potenzialmente furbo per cui serve che siano collegati a internet perché se no tanto vale uno si risparmia metà della cifra e lo prende non IoT che in alcuni casi come per la serratura forse sarebbe una buona idea quindi non parliamo tanto di IoT o di dispositivi IoT o di cose IoT noi cerchiamo di parlare di sistemi IoT che sempre secondo l'IEEE un sistema IoT è un sistema che ha a che fare con l'interconnessione di oggetti fisici che sono ovviamente connessi a internet che sono rilevanti da una prospettiva utente e applicativa quindi non tanto rilevanti da una prospettiva di rete o da una prospettiva tecnologica o da una prospettiva commerciale eccetera ma soprattutto da una prospettiva dell'utilizzatore cosa ce ne faccio perché non devo buttarlo e da una prospettiva dell'applicazione se volete qui c'è una lunga articolo dell'IEEE di questo working group sull'internet of things che è revisionato a maggio 2015 che dà tutta una serie di definizioni varie definizioni verso l'internet of things e cerca di sintetizzarne uno non riuscendoci pienamente in realtà era un lavoro in corso che non è mai arrivato a termine però sapete cos'è l'IEEE? sì? che cos'è l'IEEE? questa è la domanda dopo fa gli standard ok metà del lavoro dell'IEEE è fargli standard ok l'IEEE adesso mi chiedi sta per international electrical engineering e l'altra è qualcos'altro fa gli standard più o meno metà dell'IEEE si occupa di standardizzazione l'altra metà dell'IEEE si occupa di ricerca e sviluppo in generale e ha dei gruppi di lavoro su vari argomenti uno dei quali è l'internet of things che ha le sue riviste che ha le sue pubblicazioni che ha i suoi white paper che ha i suoi impatti industriali eccetera e queste definizioni anche quelle di prima sono tutte di questo gruppo di lavoro che è di IEEE la controparte nel mondo informatico di IEEE qual è? questa è cultura generale non è l'IEEE fa gli standard è grossa si occupa di tante cose dall'ingegneria meccanica all'elettronica all'informatica la ISO fa gli standard qualcuno che non fa gli standard ma che ha la parte di ricerca e sviluppo dell'IEEE simile all'IEEEE ed è solo informatica IBM è un'azienda ACM ACM mai sentita? no l'ACM Association for Computing Machinery è la controparte dell'IEEEE l'ACM per gli informatici quindi per voi per voi forse lo che hanno anche il premio Nobel dell'informatica dà il premio Nobel per l'informatica che si chiama il Turing Award è lei che dà l'ACM come un'organizzazione che dà questo Turing Award che appunto è classificato come il premio Nobel dell'informatica quindi torniamo all'Internet of Things l'Internet of Things come dicevamo non è solo non è quasi più non dovrebbe essere soprattutto sul creare nuovi oggetti oggetti connessi perché abbiamo visto che c'è davvero da sbizzarrirsi ma dovrebbe essere soprattutto un qualcosa che ha a che fare con le relazioni tra le persone e questi oggetti relazioni che cercano di rispondere a domande tipo quelle qual è il goal di questi oggetti connessi sono connessi perché potevamo metterci un chip dentro e farli parlare wifi o sono connessi perché in realtà ci servono davvero e che cosa comunicano a chi lo comunicano che cosa ascoltano dall'ambiente come noi possiamo sfruttare quello che ascoltano dall'ambiente e come vi dicevo in questo corso noi ci concentreremo su creare questi sistemi IoT non creare assolutamente dispositivi IoT per i quali tra l'altro servirebbero competenze non solo da informatici ma da questa prospettiva quindi dal cercare di fare un qualcosa che abbia uno scopo applicativo che possa essere utilizzato non tanto raccolgo dati perché è bello farlo e poi li tengo lì quindi l'approccio che seguiremo in queste 24 ore è sicuramente un approccio pratico con tante come è scritto lì esperienze hands-on quindi cose da fare o insieme o da soli con un lavoro di gruppo che è uno spoiler verso il dopo che sarà da fare che sarà una parte importante non l'unica ma una parte importante dell'esame e ci concentreremo su aree applicative più che sulla tecnologia in sé e vabbè lo schedule più o meno lo sapete appena anche il professor Cerotti riesce a capire quando e come mettere le sue ore saremo più contenti noi per ora e direi che in maniera confidente abbiamo lezione il martedì qui dalle 11 alle 13 salteremo alcuni martedì quando io non ci sarò e quindi voi non venite qui a fare niente e avremo invece un giovedì mattina sempre dalle 11 alle un giovedì mattina non vi dico sempre dalle 11 alle 13 perché non ne sono sicuro ma un giovedì mattina qui in aprile uno solo tutti gli altri saranno martedì controllate comunque sempre il calendario sul nuovo Upo Planner per essere sicuri io comunque vi darò poi avvisi se cambierà qualcosa ma al momento lo schedule è quello lì oggi il 19 il 26 il 2 il 9 aprile l'11 aprile che è quel giovedì il 30 il 14 e poi dopo l'11 ci sono le vacanze di Pasqua il 30 poi non ci sono io il 14 il 21 il 28 il 4 e l'11 giugno e queste sono tutte le volte che in modernità beta ci incontriamo e il corso come vi dicevo ha un approccio pratico e qui durante queste ore più o meno faremo queste tre attività diciamo no? lecture che vuol dire lezioni non necessariamente come oggi anzi sicuramente non come oggi ma momenti in cui comunque io parlo io faccio qualcosa sul computer voi auspicabilmente ascoltate e fate anche voi sul computer ma insieme che sono la prima colonna di questa slide la seconda colonna che sono esercizi ora in cui io invece sto zitto e non faccio e fate voi degli esercizi sulle cose che abbiamo visto sperimentato prima ovviamente e poi l'ultima lezione l'ultimissima lezione sarà quella che chiamiamo lavoro quello che chiamo lavoro di gruppo supervisionato quindi saranno due ore in cui voi potrete lavorare in gruppo verso altro piccolo spoiler il progetto che vi servirà per l'esame e avrete quelle due ore per iniziare a lavorarci qui o per continuare a lavorarci qui e se avete domande problemi dubbi quelle due ore sono il momento ottimo per farli perché io ovviamente sarò qui in quelle due ore esclusivamente per rispondere alle vostre domande e ai vostri dubbi di natura più tecnica o più pratica o più relative all'esame questo è il piano diciamo così vediamo come si evolve come vi dicevo già per la maggior parte cercheremo di utilizzare competenze che già avete da altri corsi incluso Java Git e Git è uno di quello e integrando ovviamente essendo un sistema IoT integrando necessariamente differenti tecnologie differenti componenti hardware e software insieme di nuovo verso un unico diciamo obiettivo applicativo queste saranno alcune delle cose che useremo useremo GitHub e quindi di conseguenza Git e io oltre a videoregistrarmi tutte le cose che comunque faremo in aula le metterò su Git in un'organizzazione dedicata a questo corso in modo che voi abbiate tutto in un unico posto che sarà anche linkata da dir ma almeno lì useremo Java useremo JSON JSON qualcuno lo conosce? più o meno ok grazie useremo database che si chiama RedDB che si chiama SQL che sia SQLite non importa probabilmente IntelliJ come vi dicevo prima HTML JavaScript jQuery useremo le Philips Hue uno di quei dispositivi IoT che vi ho fatto vedere prima quelle le useremo ne abbiamo qui tre lampade e le useremo e useremo sicuramente il Raspberry Pi e vedremo qualcosa sul mondo Z-Wave come protocollo lo vedrete anche in aula come protocollo di rete sicuramente faremo vedremo REST da un punto di vista teorico e anche poi da come progettare un'interfaccia REST come anche in Java diciamo così useremo MQTT e useremo Spark che nel caso l'ho scocchiato su internet non è Apache Spark non c'entra niente con Apache Spark è Spark Java è un micro framework web perché? perché ci servirà a tirare su un server web a un certo punto anche solo per la parte REST e in Java usiamo GSP ma mi rifiuto di usare GSP nel 2019 anche Oracle dice non usatelo ma questo non tutti l'ascoltano e non ci mettiamo a imparare come usare Spring che è un framework bello ma enorme in Java e useremo questo micro framework che è molto semplice e modulare quindi useremo solo le cose che ci servono e installeremo solo le cose che ci servono per i nostri obiettivi per gli esempi che faremo ok domande fin qui? no parliamo dell'esame che credo sia un argomento di abbastanza interesse no? ok l'obiettivo dell'esame di questi tre crediti è di nuovo di valutare la vostra capacità di progettare e realizzare un sistema IoT e di realizzare un sistema IoT che non sia solo bello su carta o che funzioni una volta ogni dieci giorni ma che funzioni tipicamente considerando anche il fatto che voi ormai siete alla fine tendenzialmente dovreste essere alla fine del vostro percorso di laurea triennale quindi dovreste avere ormai un certo background e una certa competenza che avete acquisito durante questi almeno tre anni due anni e mezzo in su l'esame consiste di tre parti l'idea che sei dietro all'esame a differenza faccio una premessa per chi c'era l'anno scorso l'anno scorso l'esame era la realizzazione la discussione la dimostrazione di un progetto a gruppi che era da inventare da parte dei gruppi quindi dalla parte di ideazione alla parte di dimostrazione pratica quello era l'esame per varie vicende ho deciso un po' di cambiare e in parte alleggerire la parte di progetto come tipo di lavoro quindi non ho aggiunto a quello che si faceva l'anno scorso ho tolto da lì e ho aggiunto la riga sopra quindi il progetto finale rimane è un progetto da fare a gruppi di tre o quattro persone non due non cinque tre o quattro persone e un progetto che vale sedici punti sono tutti obbligatori ovviamente se no non è arrivata la sufficienza e un progetto che vale sedici punti sull'esame non è data la sufficienza perché non vi promuovo è più facile sedici punti sull'esame c'è poi una dimostrazione e discussione del progetto da fare il giorno dell'esame a gruppi che sarà a gruppi l'individuale perché mi aspetto che nella discussione no nella discussione del progetto deve emergere il contributo individuale verso il progetto chi ha fatto cosa in modo che non sia una persona che lavori e tre che guardano e l'esame il giorno dell'esame vale sei punti prima ci saranno da consegnare tre esercizi tre esercizi che non vi voglio fare a fare a casa che sono questi tre esercizi qui tolto quello dove c'è scritto uno quindi laboratori che io vi darò da fare qui in due ore e che voi auspicabilmente finite in queste due ore e caricate porredo su dir e quello vale come una consegna di un quell'esercizio se non li finite qui o non siete qui quel giorno perché c'è sciopero dei treni avete mal di pancia o qualcos'altro avete comunque una settimana di tempo per fare questi esercizi e consegnarli quindi sono cose che se fate qui bene se non riuscite a finire o non ci siete potete comunque fare e sono esercizi che potete fare senza li scriverò in maniera che potete farli anche da casa senza bisogno di accedere ad hardware specifico che sarà necessariamente invece qui vado un attimino nel dettaglio gli esercizi valgono 4 punti ciascuno 3 esercizi per un totale di 12 punti se fate la somma arrivate a 35-36 per tenere in conto la lode il voto finale voi avrete un voto unico per tutto reti 2 che varrà i due terzi di quello che prenderete della parte di teoria con il professor Cerotti e un terzo di quello che varrà qua 9 crediti 6 crediti di là 3 di qua gli esercizi come vi dicevo 3 esercizi che io vi darò saranno su dir da iniziare e auspicabilmente finire qui nelle due ore che saranno dedicate a quegli esercizi su questi 3 argomenti uno interagire con i dispositivi IoT che sarà uno delle prossime argomenti che affronteremo dalla settimana prossima 2 REST un server REST con il microframework Spark e 3 degli esercizi su MQTT in modo che tutti sperimentino tutto l'idea la base di questi esercizi è questo permettere a tutti di voi di sperimentare con tutte queste cose cosa che in un progetto tipicamente non avveniva in teoria il primo laboratorio lo facciamo il 2 aprile durante la lezione del 2 aprile ed è poi da consegnare entro l'8 che vuol dire che potete consegnare il 2 il 3 non il 9 entro l'8 il secondo lo faremo qui il 30 aprile e poi sarà da consegnare entro il 6 maggio e il terzo lo faremo il 4 giugno e sarà da consegnare entro il 10 giugno ripeto laboratori che faremo qui e che potrete in teoria consegnare alla fine di quelle due ore online ogni laboratorio varrà 4 punti a questi 12 punti si sommano i 16 punti del progetto finale il progetto finale ripeto a gruppi di 3-4 studenti a differenza degli anni passati non dovete inventarvelo da zero ma sarà uguale per tutti che è una delle cose che vi alleggerisco le ore di pensiere di no non va bene no dovete tener conto anche della parte di sensing no non fate abbastanza non accendete niente raccogliete sui dati e poi cosa ve ne fate tutte quelle ore ce le risparmiamo avete un progetto definito che è già su dir con delle specifiche con un'architettura che comprende un sotto insieme di tutte le cose che vedremo durante il corso tranne forse una e che sarà uguale per tutti quindi l'unica cosa che vi chiedo come compito a casa su questo argomento è formare i gruppi e i gruppi devono essere formati in questo mese in modo che sappiamo poi chi lavora con chi c'è un documento condiviso linkato da dir in cui indicare i gruppi e un nome del gruppo per non chiamarlo gruppo 1 2 3 4 da fare entro il 2 aprile perché perché ogni gruppo avrà per la consegna del progetto e per lo sviluppo del progetto soprattutto per lo sviluppo del progetto un repository GitHub associato al gruppo privato nell'organizzazione del corso quindi ogni gruppo dovrà diciamo lavorare in quel repository e poi in quel repository qualche giorno prima dell'esame ci dovrà essere il codice dell'esame in cui voi intendete sostenere questo l'appello in cui voi intendete sostenere l'esame ci dovrà essere il codice del vostro progetto vabbè poi ringraziamo GitHub che ci ha dato un numero illimitato di repository privati per questo corso e l'organizzazione che è quella in cui anche ci sarà tutto il codice che svilupperemo durante queste ore è questa qui github.com slash ret2vc meno 2019 la valutazione di questo progetto di gruppo sarà la valutazione del codice che avete consegnato su GitHub e di una relazione breve di massimo 10 pagine non più di 10 6 va bene 5 va bene con le immagini con quello che volete non scrivetelo solo in font 36 scrivetelo normale e viene lungo quanto viene in cui raccontate vi darò qualche dettaglio in più su Dear tra oggi e i prossimi giorni in cui raccontate cosa avete fatto quali sono state le problematiche riprendete un attimino l'idea del progetto e tutto questo la relazione e quindi rispetto all'anno scorso e a due anni fa abbiamo perso il video gli altri anni chiedevo anche di fare un video sul progetto quest'anno no la relazione e il codice dovranno essere sul repository associato a ogni gruppo tre giorni prima della data dell'esame di ogni data dell'esame in cui il gruppo intende sostenere l'appello e come vi dicevo prima ci sarà poi una dimostrazione qui pratica del progetto e una discussione qualche domanda brevemente quindi a tavolo vi mettete qui montate quello che dovete montare mi raccontate il vostro progetto facciamo qualche domanda e proseguite con la giornata e il contributo individuale dovrà emergere ovviamente da questa discussione e dimostrazione del progetto tutto chiaro anche fin qui domande direi IntelliJ Java almeno 8 almeno Java 8 e IntelliJ altre domande quindi ricapitolo brevissimamente l'esame consiste in tre esercizi da iniziare e possibilmente finire qui da consegnare che valgono quattro punti per esercizio per un totale di 12 dopodiché c'è un progetto che parete a gruppi 3-4 persone i gruppi li scegliete voi progetto predefinito che adesso vi racconto brevemente ma ci sono quattro pagine su dir quattro pagine tipo word su dir che raccontano il progetto quindi dovrebbe essere sufficiente leggere quelle ma vi do due parole due informazioni il progetto la parte di sviluppo vale 12 punti 16 punti ovviamente un gruppo da quattro avrà più roba da fare di un gruppo da tre è previsto nelle specifiche del progetto perché c'è una persona in più che potenzialmente lavora e infine c'è una dimostrazione e discussione orale del vostro progetto da fare il giorno dell'esame uno dei giorni degli appelli dove voi prendete anche il voto finale di tutto in tempo diretto diciamo in tempo reale progetto finale policy che sono anche riportate sul su dir nella pagina del progetto ogni progetto deve essere realizzato in maniera indipendente da ogni gruppo che è un modo lungo per dire non copiate perché poi finisce male per voi soprattutto se poi uno se ne accorge eventuali scelte di progettazione o implementative che avete fatto come gruppo dovranno poi essere riportate nel report finale e il progetto dovrà includere tutte le componenti software e hardware che sono elencate nel documento di specifica del progetto e il codice sorgente che consegnerete deve essere lì c'è scritto ben scritto e appropriatamente commentato diciamo leggibile degno diciamo di persone che sono al terzo anno di informatica e non al terzo anno di agricoltura senza nulla togliere chi fa agricoltura i componenti software del progetto devono essere funzionanti dentro un ambiente di sviluppo java quindi io devo poterlo scaricare premere run e vedere che fa qualcosa magari non nei collegamenti con la parte hardware perché magari non c'è ma il software non deve dare errori di compilazione banalmente ecco questo e beh i gruppi possono dovrebbero è consigliato che lavorino dai propri portatili invece che da questi pc qui quando possibile se no questi pc qui prima di martedì prossimo avranno tutto il software necessario installato e all'interno del progetto i gruppi potranno scegliere liberamente sia i componenti che riguardano l'interfaccia grafica html css javascript uso bootstrap o non uso bootstrap come volete è più roba da metodologia applicazioni web che non di questo corso quindi usate quello che conoscete o che mi fa più piacere usare e al di là di quello che succederà su raspberry dove diciamo che csharp non è proprio il linguaggio ottimale per quanto riguarda i componenti server del progetto al di fuori di quelle del raspberry ugualmente potete usare il linguaggio il framework che preferite quindi io vi farò vedere tutto in java con spark ma se voi vi trovate meglio con csharp e cosa usate con csharp quello che userete con csharp potete anche usare quello non c'è problema per quelle componenti lì visto che fate questo corso in parallelo mi sembra stupido non vincolarvi solo su quello che facciamo qua in 24 ore rispetto a quello che fate là in molte più ore o che avete fatto in precedenza l'importante è che sia un linguaggio conosciuto ai più che vuol dire che csharp va bene che vuol dire che javascript va bene che vuol dire che python va bene che java va bene che rubi va bene e fermiamoci lì direi se riuscite a farlo in c in c++ va bene ma allora il progetto è pienamente descritto in questo documento condiviso che è anche linkato da dir come vi dicevo i gruppi da 4 persone hanno qualche requisito in più da soddisfare per tener conto che c'è una persona in più e l'obiettivo del progetto è quello di realizzare diciamo così una stazione BART intelligente sapete cos'è BART non quello dei Simpson ovviamente BART che non è quello dei Simpson è la rete diciamo pseudo ferroviaria californiana è la Bay Area Rapid Transit è una rete ferroviaria che collega buona parte della Bay Area in California la GTT una GTT del loro diciamo e quindi loro hanno le stazioni sono stazioni diciamo che ne vedi mezzo tra un treno e una metropolitana non è un treno come quello di Trenitalia ma non è neanche proprio una metro che va sotto terra a San Francisco sì ma fuori da San Francisco no e ha delle stazioni ha ovviamente uno schedule la varie linee del treno ha degli orari di partenza in real time non in real time ha dei requisiti ha varie stazioni eccetera l'obiettivo del progetto è quello di diciamo così l'idea è quello di potenziare una stazione BART con delle tecnologie IoT per supportare i passeggeri per mentre aspettano mentre prendono i vari treni quindi nelle specifiche ci sarà scritto di realizzare una stazione BART non vi verrà scritta quale stazione BART potete sceglierla voi tra le varie stazioni BART che ci sono con alcuni requisiti e con un'architettura che è questa questa è l'architettura per un gruppo da 4 l'architettura per un gruppo da 3 gli manca un pezzo l'architettura del progetto poi andiamo un attimino nel dettaglio nel progetto è quella che più o meno seguiremo durante anche il corso per quanto riguarda le lezioni c'è una parte diciamo qui in quest'area qui sotto quindi questo e questo che è quello che chiamiamo l'interfacciamento col campo quindi le informazioni che possiamo prendere dall'ambiente dai dispositivi IoT dai servizi IoT e le informazioni che possiamo fornire ai servizi IoT alle o all'ambiente l'esempio classico accendere e spegnere la luce è un'azione che facciamo sull'ambiente sapere la temperatura di un luogo è una informazione che prendiamo dall'ambiente dove l'ambiente lo chiamiamo campo per semplicità in questo progetto voi avrete due sorgenti barra destinatari di dati uno sono l'API di Bart io ho scelto questa non ho scelto GTT non perché ce l'abbia totalmente con GTT ma soprattutto perché qui nessuno offre dell'API diciamolo proprio papale papale non c'è un ATM un GTT un Trenitalia che offre dell'API REST per accedere alle informazioni di cosa succede ci sono delle sorte di JSON che sono quelle che finiscono in Google Maps ma tipicamente non sono così facili da trovare e non contengono le informazioni in tempo reale quelle che vengono fornite al pubblico quelle che vengono fornite a Google sì ma a noi no e quindi l'ente più affidabile che forniva API e rapidamente trovabile era Bart Bart fornisce dell'API REST con le informazioni su tutte le stazioni su tutti i treni anche in tempo reale quindi è una sorgente di informazioni per tutto a voi veramente servirà un sottinsieme di quello quindi nel momento in cui sceglierete una stazione recupererete le informazioni di quella stazione da quell'API e poi a quel punto avrete le informazioni dei treni che passano in quel momento in quella stazione tramite queste API quindi una fonte di dati API REST una fonte di dati esterna ma che noi comunque consideriamo campo se immaginiamo che questo sia fisicamente installato in una stazione Bart in questo progetto ci saranno delle lampadine perché ci sarà una parte di attuazione che sarà accendere e spegnere delle luci la cosa bella delle lampadine è che voi potete lavorarci anche da casa perché loro hanno un emulatore software quindi per provare che tutto funzioni avete un emulatore a casa da installare sul PC e non dovete essere fisicamente sulla rete dell'Ateneo con una lampadina attaccata alla presa di corrente per vederla accendere queste informazioni saranno gestite da un gateway gateway che obbligatoriamente starà su un raspberry dovrà essere su un raspberry quindi fatto in java che gestirà queste informazioni e applicerà una sua logica ed eventualmente salverà alcune informazioni di interesse su un database locale al raspberry dopodiché questo raspberry sarà accessibile tramite un'applicazione web che è raffigurata da da quello schermo là sopra applicazione web il cui server non starà tipicamente qui ma starà lì questo esporrà dell'API REST e lì ci sarà un qualcuno che chiede le informazioni a questo raspberry e le visualizza e i gruppi da 4 se non ricordo male avranno in più da gestire una parte di informazione in tempo reale tramite MQTT che è un protocollo di publish subscribe MQTT quindi lui pubblica delle informazioni e qualcuno le ascolta molto più adatto per il real time di quanto non sia HTTP prima di passare alla descrizione del progetto due parole sul materiale disponibile queste sono alcune cose che abbiamo che useremo con le loro e vedremo con le loro caratteristiche positive e negative che avranno tutto il mondo parte del mondo Zetawave che è un protocollo proprietario di rete mesh come vi dicevo prima abbiamo un gateway Zetawave che è una schedina che sta su un raspberry dentro quel mini rack avremo delle prese più brutte di quelle della figura di prima che sono prese on off e alcune di queste dicono anche il consumo di corrente la potenza assorbita e alcune anche l'energia e abbiamo dei lamp holder che sono dei porta lampadine voi prendete la lampadina normale la infilate in queste cose questo cosa lo infilate nel porta lampada a soffitto e accendete o spendete la luce abbiamo alcuni sensori multipli come quello di prima esattamente come quello di prima con temperatura umidità luminosità e movimento e abbiamo il raspberry pi sicuramente uno per gruppo anche di più con relativa sd card case alimentatore e basta useremo vedremo durante un durante una delle prossime lezioni come usare un braccialetto da Fitbit che rientra nel dispositivo IoT perché ha un modo diverso di comportarsi da un punto di vista diciamo anche di rete rispetto a ZigBee o Zetawave abbiamo dei microfoni delle webcam delle casse che gli altri anni venivano poi sfruttati per i progetti perché potevano scegliere i vostri colleghi sceglievano questo materiale tra questo materiale anche in base a quello che avevano bisogno di fare ovviamente per voi con un progetto fisso questo serve molto meno e come vi dicevo abbiamo le Philips Hue che useremo la prossima volta le Philips Hue hanno un hub che mantiene la rete ZigBee che anche lui è in questo rack quindi per usare questo materiale hardware bisogna fisicamente essere in questo in questo laboratorio nei dintorni di questo laboratorio e li vedremo le utilizzeremo soprattutto queste queste sono da usare anche nel progetto ed ecco perché la dimostrazione serve essere qui a farla perché se dovete accendere o spegnere le lampadine è importante essere qui per poterle accendere e spegnere su serio in fase di sviluppo potete usare l'emulatore in fase di dimostrazione del progetto è meglio come dire fare la migliore figura possibile anche in modalità dimostrativa quindi non far vedere qualcosa sullo schermo del pc ma far accendere il dispositivo vero come vi dicevo questo è il è già linkato su dir questo è il documento sull'esame che ripete che ripete la consegna individuale dei laboratori con i suoi punti eccetera 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 dice che cosa ci si aspetta durante la dimostrazione quindi sì sicuramente di vedere il prototipo funzionante ma anche che durante la discussione la dimostrazione occorre introdurre il progetto e spiegarvi gli scopi obiettivi e le funzionalità da un punto di vista dell'utilizzatore finale non tanto da un punto di vista tecnico da un punto di vista tecnico ho già visto il codice e vi posso fare poi dopo tutte le domande che voglio dal punto di vista tecnico dal punto di vista della dimostrazione dovete dimostrarmi che il vostro sistema IoT funziona e fa quello che deve fare quindi senza entrare sì qui c'è una chiamata HTTP non importa ovviamente serve ma non importa in quel contesto come vi dicevo il gruppo di lavoro 3-4 persone ci sono le stesse requisite e policy che sono nelle slide c'è una lista di quello che dovrebbe contenere la relazione di massimo 10 pagine tra cui l'introduzione sul sistema l'obiettivo lo scopo la stazione BART che avete scelto il sottinsieme di treni che avete scelto di considerare l'ora del giorno che avete scelto di considerare eccetera l'architettura le ore del giorno l'architettura del sistema la lista dei componenti hardware e software effettivamente utilizzati mi aspetto che siano tutti quelli elencati qui in fondo o nel progetto nella descrizione del progetto ed eventuali scelte implementative e limitazioni di quello che avete fatto mi sono accorto che non posso avere dato ogni 3 secondi io lo volevo ogni 3 secondi non posso lo posso avere ogni 5 va bene è una limitazione sopravviveremo lo stesso però è una limitazione motivata dal fatto che per esempio le API di BART non ti danno l'informazione in 3 secondi ma ti danno in 5 per esempio poi vi racconto l'architettura generale che è quella che più o meno vi ho raccontato prima ecco noi per tornare un attimino a cosa faremo qui le prossime settimane le dedicheremo alla parte di interfacciamento verso il campo poi ci sposteremo sul gateway e al rosberry pie e a come fornire un'interfaccia rest con alcuni esempi della parte ovviamente web based in fondo come interfaccia grafica proprio perché quello è il mondo web che dovreste vedere barra aver visto vedrete ai due corsi di web quindi alcuni cenni sicuramente ma senza andare eccessivamente nel dettaglio perché quello è web normale e tradizionale e qui c'è la descrizione del progetto quindi si vuole realizzare una stazione BART intelligente c'è il link a BART la stazione conterrà al suo interno un gateway che dovrà gestire le informazioni sulla stazione stessa disponibilità di parcheggi c'è un parcheggio non c'è un parcheggio dai dati che ti dà BART ci sono posti ecco in California siete messi qualcuno è mai stato in California no perché se no conoscevate BART giustamente un problema che hanno su quei treni che poi il problema su cui si concentra buona parte di questo progetto è dove metto la bici posso salire sul treno con la bici tutto il mondo relativo alla bici allora alcune stazioni BART hanno gli stalli per le bici più o meno chiusi più o meno sicuri in molti casi la persona si carica la bici sul treno e a destinazione la prende e torna a pedalare fino a arrivare a Google o a Microsoft ad Apple piuttosto che Facebook al loro luogo di lavoro immaginando che sia di questo settore questo è un problema perché a un certo punto il regolamento di BART dice sul treno affollato le bici non salgono quindi se tu sei lì con la bici il treno affollato non puoi salire e tipicamente la gente non sale perché la regola dice così e quindi aspetta il treno dopo che magari arriva dopo 5-6 minuti però aspetta il treno dopo che se di nuovo affollato punta capo dovrebbe aspettare quello dopo allora quello che si vuole più o meno realizzare qui poi lo leggiamo con un pochino di calma è un sistema diciamo così di prenotazione alerting per soprattutto i passeggeri e passeggeri con bici quindi una persona può prenotare mi interessa salire su quel treno e ho o non ho la bici e se ho la bici voglio utilizzarla sul treno a quel punto man mano che la gente si prenota il treno si riempirà più o meno e verrà fornito sia in stazione che al passeggero con bici l'informazione del fatto che può salire sul treno con la sua bici oppure se può oppure che deve riprenotare per il treno successivo perché in quel momento su quel treno non può salire essenzialmente è questo l'obiettivo permettere ai ciclisti di sapere con anticipo se andare lì aspettare il treno perché possono salire oppure no quindi questo sistema questo gateway dovrà gestire questi tre tipi di informazioni le informazioni statiche sulla stazione ci sono parcheggi non ci sono eccetera ha uno stallo per le bici o no le informazioni sui treni in transito che linee passano da lì quali sono gli orari previsti quali sono gli orari in tempo reale e le informazioni fornite sui passeggeri in questo senso che sono appunto utilizzando un apposito sito web potranno prenotare un posto su un specifico treno indicando anche la loro necessità di trasportare o meno una bicicletta il gateway tenendo conto di queste informazioni accenderà una luce verde in stazione per indicare la prenotazione di bici quindi occhio che questo treno che sta per arrivare ha prenotazione di bici più prenotazioni con bici vengono effettuate più la luce diventa verde quindi partirà da un verde pallido fino a un verde acceso e quanto sia pallido quanto sia acceso è una scelta che potete fare voi l'importante è che sia verde e inoltre il gateway quello sul raspberry dovrà stimare quante persone si troveranno su uno specifico treno tramite le prenotazioni che hanno fatto e nel vostro caso ovviamente saranno prenotazioni che farete sempre voi e quindi metterete immagino delle soglie soprattutto per la dimostrazione tipo 5 persone erano riempite il treno una roba così perché se no dobbiamo cliccare 47 milioni di volte prenota 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 per avere un treno pieno quindi scalate il progetto in base alle necessità del momento tanto è un numero basta poi cambiarlo per avere una soglia più alta e se il treno diventasse troppo affollato dovrà notificare il sistema ai passeggeri con bicicletta solo a quelli del fatto che non potranno salire con la bici e la luce verde di prima diventa rossa lampeggiante per dire occhio che la luce delle bici adesso non potete più salire con le bici poi qui c'è un dettaglio di tutte le informazioni tra cui il sito da cui è accessibile la documentazione dell'API per BART che vi dà sia le informazioni sui treni in una data stazione sia le informazioni su una stazione specifica fino a qualche mese fa vi dava anche la stima del numero di persone sul treno che poteva essere interessante adesso non ve la dà più quindi se la trovate ancora nel JSON ignoratela e con alcune specifiche che girano intorno che specificano meglio questo concetto di luce verde luce rossa prenotazione non prenotazione le cose che voglio indicare sono i gruppi da 4 quindi i gruppi da 3 devono fare quello che non quello tutto dove c'è scritto gruppi da 4 vuol dire che i gruppi da 3 possono ignorarlo e quella è una cosa che deve fare solo il gruppo da 4 in particolare la cosa che ho trovato ma forse ce n'è un'altra che non vedo più il gruppo da 4 solo il gruppo da 4 nel caso in cui il treno diventi troppo affollato sempre con questa soglia a scelta del gruppo 5 persone 6 persone il gateway deve notificare via MQTT non via rest non via batte la pesca via MQTT al viaggiatore con bici l'impossibilità di caricarla su a bici e chiedergli se vuole cancellare la prenotazione o salire senza bici tramite una sorta di chat da realizzarsi con javascript e MQTT e questo esempio un esempio molto simile di utilizzo MQTT in javascript lo vedremo comunque in aula l'idea è che il progetto la mia idea poi vediamo se va a buon fine è che il progetto le componenti basi del progetto siano comunque le vari pezzi le varie esercitazioni i vari esercizi le varie cose che vi mostrerò in aula siano le varie componenti base del progetto che voi poi dovrete ovviamente mettere insieme e adattare al contesto specifico perché io ovviamente non userò l'esempio della stazione e non userò le API di BART per nessuno degli esempi e c'è anche qualche informazione sul tipo di dati per esempio da mettere sul DB il gateway è responsabile di memorizzare l'associazione tra viaggiatori treno bici eccetera perché l'idea l'architettura qui manca un pezzo in questa architettura manca il pezzo è che questa parte da qui in giù questo pezzo qui gateway database e Philips U siano replicate potenzialmente in ogni singola stazione BART mentre questo è un servizio comune a tutte e quelli lì sopra anche quello è la persona che a casa dovunque sia può accedere alla stazione 1 alla stazione 2 alla stazione 3 quindi questi progetti che farete voi in un certo senso è come se ognuno di voi implementasse una diversa stazione BART ad andare poi lì sul posto e installare fisicamente nella stazione mentre le parti più web sono comuni a tutte le stazioni BART quindi questo gateway esporrà per esempio attraverso HTTP delle sue API e l'interfaccia web server diciamo il server web accederà alle varie API dei vari gateway che nel vostro caso sarà uno solo per gruppo alle informazioni che gli servono però l'architettura in un certo senso può scalare su molteplici stazioni questa stessa architettura e questa stessa architettura è un'architettura tipica molto tipica dell'Internet of Things dove ci sono dispositivi dove ci sono servizi che tipicamente parlano REST su HTTP vabbè dove c'è un database che non necessariamente SQL ma nel nostro caso ci va più che bene dove c'è un'interfaccia una dashboard un qualcosa che agisce sulle API REST fornite dal campo e MQTT per inviare informazioni in maniera più snella non storica e in tempo reale e qui ovviamente c'è un mini elenco di hardware da utilizzare per tutti i progetti che sono le lampadine il Raspberry Pi che vi verrà fornito e dove però voi programmerete in Java quindi adesso per chi non l'ha mai usato il Raspberry Pi è un computer Linux essenzialmente quindi se funziona sul vostro PC è facile che funzioni anche lì non è che avete proprio bisogno di sviluppare al 100% per questo tipo di applicazioni lì sopra poi dovrà essere fatto il deploy sul Raspberry ma è un PC vedetelo come un mini computer e poi potete ovviamente utilizzare un computer che sia quello personale o quello del laboratorio soprattutto per mostrare la parte web in quanto il Raspberry Pi non ha si può attaccargli un monitor ma nativamente diciamo funziona e funziona anche bene senza monitor senza tastiera senza mouse comunque queste quattro pagine sono sia nelle slide che linkate su dir domande allora se non avete domande visto che abbiamo iniziato alle 11 spaccate e non abbiamo fatto nessuna pausa per oggi la finiamo qui e se avete domande io sto ancora qui ovviamente un po' anche solo per staccare tutte queste cose e ci vediamo se no martedì prossimo dove inizieremo a parlare di REST e dell'interfacciamento con le Philips Hue e dell'interfacciamento